ma finalmente ok ci siamo quasi arrivati poco non lo so magari un po' un poco un pochino lottari no c'è il ragno che palle ancora lui devo cercare il loco oggi anche la anche lui queste nette non mi danno faccente schifo ah scusa pensavo che fosse il ragno oh no ancora lui eccolo qui ci sono quasi meno male ok scusate che a saperdere io metto le tazze e continuare e continuare dai vieni qui ranna ah ti ho pre ti ho preso ah no c'è dell'atto ok 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 Oh, non è male Oh, ci è mancato un po' Oh, cosa è che io bevo sonno? Oh, non è male Posso ricaparmi, però stavolta Sì, rimaneranno bloccati Lascia però qui, eh, se no rimane tutti ieri, sto blocco Quindi lasciamo perdere, eh Ok Siamo sistemati e Non ho ancora toccato Ok Perfetto, eh Oh, eh, ci è mancato poco, eh Dannazione Ah Dannazione 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 oh no muova lui ancora quel gnomo eh io non ce la faccio più con lui eh lo farò fuori oh stiamo attenti io lo so i ranni no 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 sono i ranni sono pochetti molto bene no 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 la sono persa grandi questi prenderanno no c'è caduto vabbè non importa lo prendiamo a questo po' grande ah siamo qua si è arrivati ah ecco siamo arrivato alla fine per confrontare il mondo può essere umano no non è un essere umano è un ragno è un gigante ragno no tu sei l'amico di venti sei venuto per aiutarlo siccome hai agri ha bisogno di aiuto eh c'è qualcuno è passato molto tempo fa quando hai avvenzato quel mostro di di hogwarts il mostro ha acceso quello adesso è tornato agri ha liberato a me mi manderò via io non sono più tornato non ho mai affatto del male a nessuno a hogwarts allora tu non sei guardato nella camera di sigreti? no il guardio è inanate della creatura non i ranni non ne hanno più ogni altra nel mondo del male è stata una cosa della creatura che uccide la ragazza del bando ma non io eh ah grazie adesso devo proprio andare ah non credo proprio non posso accettare i cari miei figli è piacere la carne fresca ah lì l'amico è ingrinte non riesce a tagliare le neatelle cattesi di finto solo sul chieno potrebbe accadere la mossa ok devo affrontarlo devo affrontarlo questi grandi per tagliarlo fuori ah cazzo porco dio scusate ah no ci mancano quasi devo e vai adesso ti colpisco come una morsa dai facciamo colpire facciamo l'energia ok ci è mancato poco adesso affrontiamo eh cazzo ci è mancato poco ci è mancato poco ci siamo quasi ecco ecco ci è mancato poco